Il piacere, il grandissimo piacere di ricevere con voi e per voi questa meravigliosa orchestra che è dei nostri amici e suoneranno per voi questa sera Saverio Dattoma, Ennio Spinozzi, Alberto Reniero, Elvis Pangallo e lui il grande, il solo e l'unico, il nostro Maurizio Medeo! Buonasera, buonasera signori, è onorato anche quest'anno di vedere tanti amici, tante belle compagnie abbiamo tanti amici che sono quelli storici da tanti anni e ci sono anche quelli nuovissimi che nel giro di questi giorni speriamo di conoscere, di fare amicizia, di poi vederci anche nelle altre serate che dire, io vi ringrazio che siete qui, un pochino per la situazione, anzi sicuramente per il mare, per il buon cibo, per il bel posto, per gli ospiti ma un pochino vi ringrazio che avete scelto anche Maurizio Medeo e i suoi ragazzi vi auguro una buona serata a tutti, buon divertimento! grazie! 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 Signorissimi, signori e signori, buon ballo, buon divertimento in nostra compagnia. Andiamo in pista, buona serata a tutti. Ave! Andiamo, andiamo! Andiamo, andiamo! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.